Ciao, sono Roberto Regoni, proprietario del Fritter Royal di Ciserano. La mia giornata, come ben sapete, parte molto presto, parte verso le 3.30-4.00 di mattina. Mi dico all'ortomercato di Bergamo, acquistare quello che qui vedete. Cerco sempre una materia prima che sia di qualità alta. Lo sappiamo che in questo momento i prezzi stanno lievitando, soprattutto su un prodotto fresco. Per nostra politica lo scaffale, grazie anche ai nostri fornitori, è rimasto invariato. Mentre sappiamo che per la frutta, visto il periodo, perché bisogna considerare la stagionalità, visto comunque l'ampia richiesta, il picco della richiesta che c'è stato adesso, genera per forza un aumento dei prezzi. Nessuno è qua a rubare. Siamo qui a fare tutto lo stesso lavoro. Il nostro margine è invariato, anzi, forse si è anche assottigliato per venire incontro alle esigenze del cliente. Però bisogna capire che è una semplice legge di domande offerte. La domanda è cresciuta molto e cresce anche, di conseguenza, il costo dei prodotti. Non preoccupatevi che da parte nostra, da parte di tutta la filiera, c'è una vera e propria etica nel lavoro. Perché i nostri clienti di oggi saranno anche i clienti di domani. Quindi nessuno aumenterà i prezzi, se non per una semplice legge di mercato. Vi presento la vera forza che in questo momento ci sta permettendo di darvi questo servizio. Che sono mia madre, mia socia anche in questa impresa. Mio padre, che è un pensionato però ormai a Cisera lo conoscono tutti perché è nostro adetto alle consegne, volontario. e mia sorella che è maestra d'asilo ma in realtà si sta prestando a fare da centralinista e preparare le consegne. Devo dire grazie a loro perché questo negozio, come tutti i nostri clienti, per noi sono una grande, grandissima famiglia. E vi ringraziamo per darci la fiducia.